Benvenuti nel mondo Zepter, sinonimo di salute, stile e bellezza. Vogliamo presentarvi l'unico e brevettato sistema Zepter, il metodo giusto per cucinare in modo sano. Una combinazione unica di acciaio superiore Zepter 316L, 50% più costoso del 1810 e molto più prezioso. Tecnologia all'avanguardia e design elegante Zepter. Il sistema Zepter è prodotto a Milano, in uno dei sette stabilimenti europei di Zepter che si contraddistinguono per la massima qualità e gli standard di sicurezza osservati. Consente di vivere una vita migliore, più intelligente e più sana, cucinando senza aggiungere acqua o con acqua se necessario, friggendo senza aggiungere grassi e mantenendo sempre salutari gli alimenti. Grazie alle caratteristiche uniche del Zepter Masterpiece Cookware, il cibo si cuoce nei propri liquidi, conservando tutte le sue proprietà nutritive. Ciò consente di avere cibo più gustoso e sano. Il multisistema di alta qualità Zepter permette di risparmiare 70% di energia, 50% di cibo, 50% di tempo, 50% di soldi. Ma, soprattutto, protegge la vostra salute. Il dispositivo termocontrol radio digitale Zepter è innovativo, rivoluzionario e all'avanguardia. Controlla l'intero processo di cottura. Mostra quando vengono raggiunti la temperatura e il tempo di cottura impostati. Interagisce con gli altri dispositivi digitali Zepter attraverso segnali radio che permettono di avere un processo di cottura completamente automatizzato e controllato dall'inizio alla fine. Non occorre più essere presenti e avrete quindi più tempo libero. Il dispositivo termocontrol radio digitale Zepter è facile da usare. L'impostazione della temperatura e del tempo desiderati avviene in pochi secondi mediante un pulsante. Per accendere il dispositivo termocontrol radio digitale Zepter è sufficiente premere il tasto Z per almeno 1,5 secondi. La cottura impostata di default è calore umido. Per passare alla cottura a calore secco basta toccare il pulsante secco dry per almeno 1,5 secondi fino a che non si accende la spia della modalità di cottura secco. Premete ripetutamente il pulsante di temperatura o tenetelo premuto per raggiungere la temperatura desiderata. Premete ripetutamente il pulsante di tempo o tenetelo premuto per raggiungere il tempo di cottura desiderato. Per confermare le impostazioni premete il tasto Z o attendete 15 secondi per la conferma automatica. Facile, veloce e intelligente. Il dispositivo termocontrol radio digitale Zepter è compatibile con tutti i coperchi della linea Masterpiece Cookware. Il dispositivo termocontrol radio digitale Zepter presenta Interfaccia interamente digitale Design elegante e raffinato Impugnatura solida ed ergonomica Modalità di cottura a calore secco e calore umido Programmazione della temperatura e tempo di cottura desiderati Pieno controllo dell'intero processo di cottura. Soprattutto il dispositivo termocontrol radio digitale Zepter funge da guardia del corpo per gli alimenti Essendo completamente interattivo con gli altri dispositivi radio Zepter. Cosa significa completamente interattivo? Significa che il dispositivo termocontrol radio digitale Zepter può essere accoppiato Con il dispositivo di allarme remoto Zepter, Zepter Buzzer E con il piano di cottura a induzione radio Zepter. Questi dispositivi comunicano tra loro, dandovi il controllo completo del processo di cottura che procede indisturbato dall'inizio alla fine anche in vostra assenza. Non vi resta che godere del tempo libero extra che Zepter vi regala. Non dovrete più passare il vostro prezioso tempo in cucina a seguire il processo di cottura Al contrario, potrete anche uscire. Quando tornerete a casa, troverete del cibo sano, già cucinato e pronto per essere consumato. Non dovrete più preoccuparvi del tempo e della temperatura di cottura Il dispositivo si accende e si spegne da solo Ricordatevi, non servirà più la vostra presenza Una volta programmato, il sistema intelligente mantiene automaticamente il tempo e la temperatura e si spegne quando corre Con Zepter cucinare non è più faticoso, ma diventa un'arte e un piacere Vogliamo ora presentarvi il dispositivo di allarme remoto Zepter Zepter Buzzer Zepter Buzzer è collegato al dispositivo termocontrol radio digitale Zepter e indica la temperatura e il tempo durante la cottura Non è necessario rimanere accanto a Zepter Masterpiece Cookware Zepter Buzzer segnala quando è necessaria la vostra presenza Nel frattempo, godetevi il vostro tempo libero Zepter Buzzer si accoppia con il dispositivo termocontrol radio digitale Zepter comunicando in modo interattivo e informandovi in remoto quando viene raggiunta la temperatura programmata è trascorso il tempo programmato la temperatura programmata è più bassa o la temperatura programmata è più alta Zepter Buzzer è il vostro Personal Cooking Messenger che vi segnala solo quando il cibo ha bisogno di voi Nel frattempo, non dovete rimanere accanto ai fornelli ma potete leggere un libro, aiutare i bambini a fare i compiti allenarvi, fare le faccende di casa, godervi la vasca a idromassaggio o fare qualsiasi altra cosa vi piaccia Zepter Buzzer vi troverà ovunque voi siate nel raggio di 30 metri Incredibile, vero? La rivoluzionaria tecnologia Zepter consente di accoppiare il piano cottura a induzione radio Zepter al dispositivo termocontrol radio digitale Zepter e allo Zepter Buzzer per un metodo di cottura completamente automatizzato e controllato Durante la cottura, il dispositivo termocontrol radio digitale Zepter comunica al piano di cottura a induzione radio Zepter quando spegnersi è sorprendente, diventeranno i vostri migliori amici per una vita migliore Quando viene collegato il dispositivo termocontrol radio digitale Zepter il piano di cottura a induzione Zepter radio è in grado di regolare la fonte di calore consentendo un processo di cottura completamente automatico dall'inizio alla fine Al tocco di un pulsante lui regola e mantiene la temperatura di cottura immediatamente e con la massima precisione Termina autonomamente la cottura e si spegne Preserva gli alimenti inalterati nel loro stato naturale e salutare Il sistema rivoluzionario Zepter apre le porte al futuro con il suo metodo di cottura extra rapido Fino ad ora era impensabile allontanarsi dalla cucina con le pentole sul fuoco Adesso è possibile anche uscire di casa perché non è più necessario essere presenti Il dispositivo di autoregolazione cucina si spegne e conserva gli alimenti in modo naturale e salutare Grazie al multisistema intelligente di alta qualità Zepter si può uscire Andare a prendere i bambini a scuola, andare a yoga, fare shopping, prendere un caffè con gli amici Fare visita ai vicini, fare una passeggiata nel parco o qualsiasi altra cosa che ci piaccia Immaginate, potrete avere alimenti cucinati in modo naturale e sano da gustare al vostro rientro a casa Assolutamente incredibile Il multisistema intelligente di alta qualità e assolutamente sicuro Zepter Non spreca calore, risparmia tempo ed energia Zepter, l'arte della preparazione dei cibi Più intelligente, veloce, semplice, economico, salutare e gustoso La tecnologia più intelligente per una vita sana Con Zepter, cucinare in modo sano per vivere meglio e più a lungo diventa un'arte La tecnologia più intelligente per vivere meglio e più a lungo diventa un'arte